Giochiamo contro delle grandi attaccanti che sono molto vari, direi che Miedema è una giocatrice a 22 anni ed è una giocatrice completa, molto intelligente, già la conosciamo, l'abbiamo incontrata diverse volte e poi insomma hanno la velocità sulle fasce con Van de Sande, Mertens che adesso sicuramente poi starà bene per domani e quindi che insomma fantasia, gioco, quindi hanno tutto, quindi noi dobbiamo partire sempre comunque da noi stesse a fare le cose che sappiamo e mantenere il nostro gioco, fa caldo per tutti quindi va bene così e bisogna guardare in positivo, ci siamo abituati al caldo a Montpellier, magari era un po' più alta la temperatura, adesso non lo so domani perché si sono alzate anche qui però diciamo che abbiamo fatto il rodaggio, non siamo abituati al grande pubblico, così tanta gente eccetera però devo dire che la cosa ha avuto solo un effetto positivo, credo che si sia visto perché traspare la gioia che questo ci dà perché ripeto noi eravamo alla ricerca di un'opportunità e quindi quando è arrivata non c'è pressione che tenga, la cogli e se senti tutto questo affetto hai solo voglia di ricambiarlo e di non deludere ecco e credo che questo l'abbiamo percepito tutti quanti. Loro saranno di più insomma appunto perché dalla prima partita erano tantissimi, sono più vicini, c'è stato tanto, hanno vinto un europeo e soprattutto l'hanno vinto a casa loro perché l'hanno organizzato quindi questo chiaramente ha un impatto grossissimo sulla tifoseria. Devo dire che noi abbiamo dei pullman in arrivo dall'Italia, di tifosi e tifose estremamente scatenate che hanno fatto i salti mortali per riuscire a raggiungerci quindi sono pochi ma fanno casino i nostri quindi niente, non ci sentiamo in inferiorità.